Gentili telespettatori, buona giornata e scontro sul taglio delle accise. Giorgia Meloni dice io non sono incoerente. Giorgia Meloni è diventata famosa per la sua coerenza. Quello che dice, lo conferma, non cambia idea. A meno che non cambia il quadro generale della situazione, allora è anche legittimo cambiare idea. Ma come punto fisso lei principalmente non cambia idea sulle cose. Coerenza. Oggi dicono che è incoerente perché avrebbe tolto lo sconto sulle accise del carburante quando invece diceva che andavano tolte. Però c'è un gigantesco e immenso. Però. Il punto è molto semplice. La Meloni lo ha detto, lo ha scritto nel programma, non lo ha scritto perché ci sono giornali che dicono non l'ho mai detto, non l'ho mai scritto nel programma e altri che dicono c'è nel programma, c'è o non c'è, poi lo vedremo se c'è o non c'è. Ma comunque, che ci sia o non ci sia, l'idea di abbassare le tasse sulla benzina non è il punto della situazione perché ammettiamo che Meloni abbia detto o abbia scritto nel programma, abbia fatto un video del 2017, abbia fatto un video sei mesi fa, un anno fa, quattro settimane fa, dove dice che le accise sono troppo alte, oggi non è che ha rinnegato. Ah no, 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 io sono a favore. Non ha detto questo, semplicemente ha detto, bene, lo faremo, lo faremo, in cinque anni, speriamo di farlo. Come speriamo di farlo? I sinistri subito, ah, adesso dici speriamo, prima lo faccio, adesso speriamo. Ah, allora sei incoerente. Non è questione di incoerenza. E' come il papà che dice ai figli, prossima estate vi porto a Rimini Riccione, un'altra abbronzatura, un'altra canzone. Vi porto a Rimini in vacanza. Promesso papà, promesso, vi porto a Rimini in vacanza una settimana. Poi questo signore perde il lavoro e non li può più portare. E i figli gli dicono, tu sei incoerente, hai detto che ci portavi, adesso dici che non puoi, che non ci porti più. Hai cambiato idea, non ti piace più Rimini? Cioè no, semplicemente ho perso il lavoro e non ho i soldi. Cosa succede? Che la Meloni avrà promesso, avrà detto, avrà pensato che le accise sono troppo alte? Sì. Chi non lo pensa in Italia che le accise sono troppo alte, che le tasse sulla benzina sono assurde? Tutti lo pensiamo. La Meloni l'avrà anche detto. Ci sono anche dei video che hanno circolato dove lei al benzinaio paga e dice No, questo va per il mio amico che sono le tasse, questo va solo a me, va bene. Lei dice, ma se io adesso come capo del governo vedo che non ci sono i soldi per farlo, dopo 60-90 giorni che governo, ma è uno scherzo, nel senso, dopo tre mesi che sono al governo mi dite che sono incoerente perché non abbasso le tasse sulla benzina. Semplicemente lo potrò fare quando avrò i soldi, quando il governo, lo Stato avrà i soldi. In questo momento il taglio sulle accise è andato in secondo piano, si è tolto lo sconto, perché quei soldi servivano per tagliare le bollette di aziende e imprese. Perché o si tagliava per tre mesi le bollette alle aziende, oppure si pagava per un anno il taglio della benzina, delle accise. Visto che la benzina, il taglio, lo usufruivano i ricchi, i poveri, mentre il taglio delle bollette va solo per chi ha un'economia sfavorevole, diciamo così, non è che io abbia cambiato idea, è solo che dico, momento, adesso vediamo, magari fra un anno, fra cinque mesi, magari mai, ve lo dico io, magari mai, è 50 anni che si parla di abbassare le tasse, ma da lì ci si paga il debito, ci si pagano le pensioni, con i soldi delle tasse, dove ci sono anche dentro quelle della benzina, lo Stato ci vive, l'Italia ci vive sulle tasse. E togliere e abbassare le tasse sulla benzina significa che devi fare debito per coprire quel buco, e debito l'Italia non ne può fare più, non ne dovrebbe fare più. E questo è il punto, magari fra un anno c'è qualche soldo per abbassare un po' le tasse sulla benzina, magari tra tre anni, magari tra quattro, cinque, magari questo governo non riuscirà mai a tagliare le accise, perché devi tagliare le accise, devi abbassare le tasse, devi fare la flat tax, devi mandare le persone in pensione prima, ma tutti questi sono soldi, montagne di miliardi che non ci sono. Questa è la realtà. Ah, bella scusa quella che non ci sono mai soldi, però per le altre cose ci sono, come mandare gli aiuti. Quella è un'altra cosa, sono cose che viaggiano a parte. E come la famiglia che non ha soldi, diceva, era il compleanno dell'amichetto del bambino a scuola, dobbiamo fargli un regalo. Eh, ma non abbiamo soldi. Eh, li tiriamo fuori in qualche modo, anche un regalino piccolo si fa. Quindi ci sono delle cose che vanno fatte. Ci sono delle cose che vanno fatte, perché girarsi dall'altra parte è sbagliato. Perché un giorno la ruota gira e un giorno tocca a te, e se poi gli altri si girano dall'altra parte quando tocca a te, ecco. Quindi ci sono delle cose che vanno fatte, e ci sono poi delle cose invece che si possono non fare. Pertanto, i soldi non ci sono. Il paese è sempre più indebitato. Il PIL quest'anno probabilmente non crescerà, o magari crescerà un pochino. Pertanto il governo Meloni, se potrà, abbasserà. E se no non lo fa. Ecco. Per tagliare le accise si tratta di una spesa di 10 miliardi, dice la Meloni. Non avremmo potuto aumentare il fondo sulla sanità, la platea delle famiglie per carnirare le bollette domestiche, aumentare l'assegno unico per i figli, creare un carrello spesa, finanziare la decontribuzione per i nuovi assunti, il fondo per i crediti delle PMI. Queste sono misure di giustizia sociale, a differenza del taglio delle accise, che avrebbe aiutato tutti indifferentemente. i ricchi, di più. Ma il caso diventa esplosivo, finisce al centro di una polemica, perché arriva l'accusa della opposizione di aver mentito, promettendo in campagna elettorale il taglio di iva e accise, e ora negano di averlo mai fatto. Per cui ieri è stato un duro batti e ribatti fino alla conclusione del Premier. Dice, nessuna promessa. I fatti. Attorno a mezzogiorno Meloni decide di diffondere sui social una puntata speciale del suo Appunti di Giorgia, tutta dedicata al tema di benzina. Dice, l'ho fatta con tono molto irritato per controbattere ad una campagna mediatica ben costruita. Adesso vi racconterò del video. Grazie a tutti e arrivederci a presto.